Tragedia sfiorata nel Vibonese in due diverse occasioni ed in entrambi i casi decisivo è stato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. A Monterosso una 65enne per causa in corso di accertamento è precipitato da un dirupo mentre stava tagliando l'erba in un terreno. L'uomo è ruzzonato a valle per oltre 15 metri. Sul posto, nei pressi della casa di cura Villa delle Rose a Monterosso, i Vigili del Fuoco hanno portato a termine le operazioni di recupero e poi sopraggiunto l'elisoccorso. A quel punto il 65enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro dove è stato operato d'urgenza per la rottura della milza. Stessa sorte per un anziano di 87 anni scivolato in una scarpata parcheria nella frazione Fitili in località Scuteri mentre si trovava in un suo appezzamento di terreno. Sono intervenuti anche in questo caso i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibbo Valencia, sempre insieme al personale sanitario del 118, una volta raggiunto l'uomo, è stato stabilizzato sulla barella quindi è stato trasportato al presidio ospedaliero di Vibbo Valencia ma in questo caso le condizioni sono state meno difficili rispetto al precedente intervento.